la tira un pari lanzamento da un passo lanzamento e non si può servire il pitch slengo e il derecho slengo e il derecho calentando il catch del bullpen avori Victor Caldera e adesso mei recosti per il bando di non pressione con Teo Pastelli e Palo e sordo Ines il rulletto è duro in direzione del shortstop per la seconda volta per la prima volta 6-4 4-3 è il double play importante